Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Gemma Galgani è nata a Torino il 19 gennaio 1950. Il suo segno zodiacale è il capricorno. È alta 168 cm e pesa circa 55 kg la dama di uomini e donne Gemme è molto attiva sui principali social network. Su Instagram il suo profilo ufficiale è Gemma. Galgani vanta oltre 330.000 seguaci. Seguitissima sui social da tantissimi fan, Gemma Galgani si sta godendo le vacanze in vista di settembre. In tanti la aspettano di nuovo al dating show, ma un recente post pubblicato sul suo profilo Instagram mette a qualcuno dei dubbi. Come si vede infatti, la dama torinese si è mostrata girata di spalle, pensierosa con lo sguardo all'orizzonte. Osservo, penso, valuto è il messaggio allegato alla foto, con parole che hanno subito scatenato una serie di domande tra i fan. Gemma ha iniziato una nuova relazione in questa estate e sta riflettendo sui suoi sviluppi, oppure la dama ha intenzione di lanciarsi in nuove avventure dopo uomini e donne. Le parole potrebbero anche riferirsi a tutt'altro e non essere relative al suo futuro sentimentale o in tv. Il web, comunque, ha subito iniziato a fare ipotesi a riguardo e si chiede se, a partire da settembre, Gemma occuperò come al solito il suo posto nel parterre, oppure se saluterà definitivamente il programma. Nell'ultimo periodo, la Galgani non ha avuto troppo fortuna al Dating Show, sebbene il corteggiamento di Silvio sembrava fosse prossimo a farla uscire dal programma. La dama troverà l'amore nello studio di Maria De Filippi. Oppure dovrà sperare di farlo in altri modi? Tra qualche settimana, ne sapremo di più.